Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo win streak ed abbastanza sorpresa, insomma vabbè lui dovreste conoscerlo Ciao ragazzi, qui è Saedonia, stiamo col pardo già avendo insomma dei pensieri verso il futuro, verso il prossimo regolamento, il VGC 18 Il prossimo metagame Conosciamo già qualcosa ma non tutto, insomma ancora alcune cose sono velate nel mistero del tipo Giusto Quali leggendari saranno disponibili nel gioco Di conseguenza questo cambierà molto del meta del prossimo anno E noi abbiamo ipotizzato, come potete vedere, ma insomma ora vi facciamo la sneak peek di tutto quanto il team La presenza di un Cresseli all'interno degli ultravarchi che si sono visti avere vari leggendari fra i quali Mewtwo Esatto, infatti, no, vi spiego perché è partita l'idea di fare win streak che solitamente faccio in VGC 17 Ho già fatto in passato una win streak che è un grande successo, un grande seguito in Battlespot Doubles Però ho pensato, voglio rifarne un'altra in Battlespot Doubles Già che ci sono, lo voglio rifare con Sidonia, buildando un team insieme Perché poi tra l'altro voglio farvi vedere che questo ragazzo, oltre a teorizzare di competitivo, ha tanta passione E quindi è giusto valorizzarlo E quindi ho detto, beh, facciamo un team Ti va di fare un win streak con un team che dia uno sguardo su degli orizzonti che fortunatamente man mano si stanno avvicinando E così abbiamo anche modo di fare un piccolo discorso insieme con un pochino anche magari di teorie per l'appunto Sì sì, assolutamente Competitive su quello che potrà essere o non essere presente nel prossimo VGC Ci tengo a precisare che abbiamo ipotizzato la presenza di alcune mosse Move Tutor Che attualmente ovviamente non ci sono perché in Sun and Moon non esistono Che sappiamo per certo esistere invece in Ultra Sun e Ultra Moon, o meglio, le mosse in Move Tutor ci saranno Pur non sapendo quali Esatto, perché abbiamo visto che i punti del Surf Mountain si potranno spendere proprio per ottenere mosse Che poi non apriamo parentesi lunghe ma ci fa sperare bene nel senso che non servirà un farming esagerato Ma basterà divertirsi fra le onde per poter insomma accumulare punti e insegnare mosse competitive ai nostri Pokémon Però ecco, noi, ricordo sicuramente Cresselia e anche Kangaskhan se non è... No, abbiamo soltanto tre mosse Tutor Perché abbiamo ora poi lo andiamo nel dettaglio Ma abbiamo soltanto Icy Wind, Elping Hand su Cresselia e Tailwind su Aulus Ecco, Tailwind su Aulus, mi ricordavo che erano tre però non ricordavo quale fosse la terza Quindi sì, abbiamo supposto insomma la presenza di mosse come Tailwind che alla fine se vogliamo sono così importanti Molto probabilmente insomma le mosse di Speed Control come Icy Wind, Elping Hand e Tailwind Insomma, se Game Freak ha fatto le cose come si deve saranno presenti non dico tutte e tre ma insomma due delle tre menzionate Secondo me anche tutte e tre Beh, io me lo auguro anche perché sono tutte e tre mosse che hanno una grandissima valenza competitiva E poi diciamo sono un po' anche alla base Sì, ed è per quello dico E sono le tipiche mosse che aiutano a rimescolare le carte perché per esempio una presenza di Icy Wind Fa sì che un po' come Milotic che non viene considerato in questa stagione La prossima potrebbe essere un po' nuovamente in super auge Comunque dando una scorsa al team e poi cominciamo a giocare Le partite che ci tengo a precisare le giocheremo insieme Quindi qua si spera che la qualità delle giocate aumenti ulteriormente Perché in due si gioca sempre meglio oppure notevolmente peggio, vedremo Siamo partiti da un'idea di Franceschino Di Nidoqueen, io mi chiedo da tempo cosa succederà E adesso insomma avrò una risposta nel VGC 18 Nel momento in cui saranno giocabili Nidoking e Nidoqueen Con un typing che in un mondo di folletti secondo me può far bene Parliamo del terra veleno No, hai sfondato una porta aperta perché per quanto mi riguarda Nidoqueen e Nidoqueen Anche VGC 15 hanno sempre rappresentato quel Pokémon Da vedere se fosse utilizzabile o meno Perché può spalancarti davvero una coverage utile poi agli altri Abbiamo scelto Nidoqueen su Nidoqueen Nidoqueen è venuto alla fusione Perché ha una bulkiness maggiore Perché ha le poppe ma soprattutto perché ha una bulkiness maggiore Le poppe sono utile per fare i violi Esatto, quindi abbiamo unito l'utile al direttevole E poi insomma faccio una seconda precisazione Ma questa insomma so che i ragazzi che seguono questo canale sono tutti super esperti Però magari c'è chi non lo sa Questo cavillo con Sheer Force Con l'abilità Sheer Force Oltre che a, diciamo, a zerare gli effetti secondari delle mosse E aumentare l'output offensivo Life Orb non danneggia No, non danneggia E infatti insomma usare Nidoqueen è quasi un'esagerazione Nidoqueen basta e avanza per i KO che deve fare Per tutto il resto abbiamo la Mastercard che è la nostra helping end Che può aiutarci a raggiungere quei KO con, si spera, Nidoqueen Abbiamo fatto calcoli, Tapu Fini prende delle belle botte Sì, assolutamente Cioè per farvi un esempio Un Tapu Fini Bulky Prende da Sludge Bomb un danno che si aggira con la nostra sped che utilizziamo Da 79-94 Sì Una cosa abbastanza E quindi voi capite che Con poi l'ausilio di helping end è un mind KO netto Assolutamente Poi ci siamo avvalsi di ben due Mega Sì Il primo, vabbè, Mega Kanga Perché chiaramente noi vogliamo fare un team Volevamo fare un team che vincesse Cioè un team competitivamente utile, forte, godibile E quindi se non vinci è abbastanza difficile C'è stato il ballottaggio ma while Kanga Poi abbiamo scelto Kanga Poi abbiamo sciolto insomma i dubbi Siamo andati su Kanga Un Kanga che ha delle particolarità A bruciapelo, a ritorno, a Sucker Punch Ma come quarta mossa non gli abbiamo dato la stablotta Ma abbiamo Stomp Qui perché in anzi Questa è una tech tua fondamentalmente Adesso spieghiamo anche cos'è Stomp Perché penso che la maggior parte non conoscono più che altro l'effetto Io non ricordavo l'effetto secondario Mossa da 65 di potenza Poco, non si mette per far danno Ma che ha il 30% di flinch Che su doppio colpo Su doppio colpo è come dare una doppia frana Esatto A un Pokémon avversario Quindi un 49% di probabilità che l'avversario rimanga flinciato La motivazione di questa scelta è il fatto che Benché avessimo voluto in origine anche pensare ad un banale low kick Come vi abbiamo detto prima Le move tutor che abbiamo scelto sono mosse molto probabili Non crediamo ci sia la stessa iper probabilità di un calcio basso disponibile E quindi abbiamo voluto insomma Per rendere più realistico l'esperimento Per rendere più realistico a questa lore sull'eventuale WGC 18 Abbiamo detto rinunciamo all'low kick Già che ci siamo proviamo una tech Dato che appunto lo scopo di win streak è anche provare le cose Nell'arco di 10 partite Quindi proviamo Stomp su Kanga Poi abbiamo Cresselia Che è un po' il perno che va a dare la stabilità a tutto il team Senza Trick Room Abbiamo detto abbiamo Helping Hand e Icy Wind E poi abbiamo Psy Shock Al posto di Psy Kick Per anche una maggiore utilità Su i Nilego Lo preferite Ce n'è pochi in Battesburg Doubles Ma quelli che ci sono meglio E poi perché adesso usano un sacco Gli Itmon Lee con Unbarden Che si bombano la difesa speciale Mentre con Psy Shock lo andremo quasi a shottare Se non proprio per dire a shottare Quindi è abbastanza importante Come quarta mossa Tossina Per gli altri Cresselia Strumento Baccona Da 50% di recupero Che su un Pokémon come Cresselia È manna assolutamente Allo stato liquido Poi abbiamo Manetrick Non l'abbiamo detto giusto Nei due Mega Perché abbiamo voluto dare una doppia interpretazione a questo team Si potrà portare a volte Kanga A volte Manetrick Manetrick è la nostra Intimidate Molto bulky Veloce con Snarl Quasi Max PS Insomma le spread poi le vedrete in descrizione nel QR code Quindi lo scopo di Manetrick È stare accanto a Cresselia Entrare e uscire con Vault Switch Cercare di intimidire E poi far fare il lavoro sporco Abbiamo detto a Nido Queen Che farà tanti danni E poi anche al Tapu Fini Che è Spex Che con Aulucia Giocato come Itmon Lee Con Ambarden E il Misty Seed Raggiunge una velocità impressionante Si gioca all'oggetto Acrobazia Stab A Rain Dance Quindi Charizard Tecnicamente dovrebbero essere abbastanza Fucked Contro di noi E poi ha il nostro Aulucia Un meraviglioso Anchor Quindi se l'avversario prova a proteggere Penso anche magari ad Aegislash A questi Pokémon qua Con Anchor Dovremmo riuscire a gestirli Proviamo E noi poi abbiamo un'ottima velocità Con Aulucia di conseguenza Assolutamente Perché a livello 50 Abbiamo all'incirca Se non ricordo male 138 da moltiplicare per 2 Un'eresia Cioè quasi Veramente come Un base 140 scarf Cioè veramente tanto L'ultima cosa da dire Importantissima Su questo team È che abbiamo imparato Nell'ultimo anno di VGC Che senza un acronimo Comunque senza un nome Non si va da nessuna parte Giusto Se no non ci si può dare una certa Fake PG GACT GACT Cioè sono dei bei nomi giovani Anche a noi piace essere giovani Come Anche se il capello bianco avanza Però vogliamo fare i ganzi Vogliamo stare al passo con i tempi Quindi questo team Non offriva vocali Quindi le abbiamo Insomma aggiunte noi Con alcuni Diciamo vocali Le prime vocali Che si trovano i nomi dei pokemon Quindi Nista per Nidoquin K sta per Kangaskhan La H per la Lucia La M per Manetric La C per Crestella E mi accorgo adesso Che Tapu fine L'abbiamo lasciato fuori Ma il nome è talmente figo così Perché si può usare un altro Tapu Esatto Si può usare un altro Tapu Quindi lo lasci Lo lasci No no Questo è il Nika È il NikaMek È il NikaMek Ok O il Mek Nika Se andate spesso E questa è l'interpretazione culinaria Altrimenti Se si è dei rapper È il NikaMC Ok Bene Cominciamo a giocare Giappan 1796 Qua si parte subito Col botto Allora Se il NikaMC Funziona qui Allora Crestella Crestella Mawile Bulu Snorlax Gastrodon E Volcarona Ti dirò Sai che qua Nero Queen Fa bene Può fare molto bene Cioè Bulu Lo sdruma Mawile Anche abbastanza Allora Questo è palesemente il suo Un Trick Room Va bene Che setta con Crestella Io mi aspetto Uno Snorlax Che vuole Belli Drammare Dentro la Trick Room Poi c'è Mawile Che è anche un Abuser Interessante Senti Allora Mi sembrano tutti Molto lenti Volcarona non ho capito Perché È un Rage Power Probabilmente Qua si potrebbe fare Un Kanga Nido Queen Fake Out Provare Non tanto una Kill Oppure Utilizzare anche Lo Stomp Quindi partiresti Di lead Nido Kanga Nika Proprio Come NikaMC È una cosa del genere Sì Sto già pensato L'Intimidate Qui Guardando Tutta la roba Che c'è Non è male Non è male Però se si pensa A uno Snorlax Che vada A più 6 Crestella Io lo porterei Anche perché O Kanga O Manetric Quindi sarebbe Nido Queen Kanga E Fini Fini Crestella Sì Io direi di fare Una cosa di questo genere Sì dai Kanga Nido Crest Fini Sai Qui bisogna capire Cosa Bisogna capire Come fermare Qua la Toxic Su Crestella Ci può essere Molto utile Per Pokémon Molto lenti E duri a morire Come Gastrodon Sì Assolutamente Come Crestella stesso Io mi aspetto Che lui lead Con Crestella Eh beh Penso di sì Vorrà Settare la Trick Room Il prima possibile Probabilmente Ma noi abbiamo Il Fecautino A disposizione Ce lo dobbiamo Ben giocare L'output Di danni In gente E vedrai Qua noi Fake Out Più Sludge Bomb Tutto su Crest Ci becchiamo L'Intimidate Su Kanga Io presumo Che quel Mawile Se ne vada Barra Protegga davanti Un Nido Queen Perché se facciamo Air Power Pronti via Sì Lo spacchiamo Di botte Double Focus Vuoi fare O Fake Out Sì sì Double Focus Se ne sei convinto Ma io lo farei Uno che ha un minimo Di senno Sì Poi magari fa La Predic della vita Ma non ci dovrebbe Fare grossi danni Cioè oddio Se ci fa Iron Head Su Nido Quindi non ci tira giù Ma poi Siamo in range Di Sucker Punch Io non penso Onestamente Che Sei andato di Fake Out Io sono andato di Fake Out Su Cresselia Però il fatto che lui Non abbia levato Mawile Mi fa presumere che Boh Cioè o protegge Sì Ok dai Ok l'abbiamo presa Questa dai La 1796 E dobbiamo vincerci Dai proviamoci Intanto vediamo il Fake Out Non farà grossi danni No non fa danni Però lo teniamo intanto fermo Vediamo Se di Sludge Bomb Trovo per dirlo Avveleniamo Ma non possiamo avvelenarlo Allora qua Franci Qui con Double Focus Lo facciamo fuori Prima che faccia qualcosa E Power Mawile Va giù Io invece Sì però Mawile Se focussiamo Mawile Teoricamente Cresselia Ha la possibilità Di mettere la Trick Ascolta Potremmo fare Double Focus Ma è molto probabile Secondo me Che questo qua Abbia una bacca Ho capito Cioè o andiamo di Return Oppure si va davvero di Stomp E ci giochiamo a 50 e 50 Pericoloso Rischiamo Guardiamo se non ha la vacca Rischiamola E che rischiare per rischiare Allora meglio Stomp Dici così Magari peschiamo un flinch Qualora non dovesse andare il KO Sono molto indeciso Cioè in entrambi i casi È abbastanza blind Come scelta Nel senso che può andare bene Nell'uno e nell'altro caso Può andare male Nell'uno e nell'altro caso Sto pensando Perché qua c'è da pensare Anche al tanto Tento di esce Sì sì No dai Vediamo doppio Vediamo Purtroppo non avendo raggiunto il giallo Non vediamo se abbia o meno La Swire Se ne va È giusto Mi aspetto Vulu Baragastrodon Era Vediamo un po' Se ha la mental herb Vediamo Potrebbe essere mental herb Non va giù lo stesso Qua Galeotta è stata La Intimidate chiaramente Però guarda Baccone era a 50 Ci stava meglio lo Stomp Vabbè Trick Room Eh sì ce la becchiamo In faccia Vabbè Vabbè dai Ce la giochiamo Qui senza l'intimidate L'intimidate L'avremmo tirato giù Senza fargli fare nulla Senza dubbio Chiaro Però giustamente Comunque non siamo partiti male C'è 5 turni Allora Questo è il classico match Che se noi passiamo la nottata Dei 5 turni L'avanciamo Vedi rientra Mawile Beh giustamente Va a intimidare di nuovo Intimidisci pure Perché ce ne andiamo Eh ora è dura Ma lui rimangono 3 turni Dopo questo Sì Tiriamo indietro Kang E mettiamo Cresselia Quasi Mi viene da pensare Che metterci dentro Una trick Sul nostro Cresselia Sarebbe stato forse Sì Saggio per toglierle Agli altri Per toglierle anche Però vabbè Eh qua noi Non possiamo fare nemmeno Toxic a Gastro Perché chiaramente Va in conflitto Con Fini Però è un conflitto Calcolato Insomma Molti team Gocano Anche l'Arkine Un VGC 17 Con la tossina Con Fini Io avevo buttato Cresselia Perché Cresselia Poteva essere ragionevole E rimanesse in campo Allora Io ributterai Quasi dentro Kang Per fare fake out Sì E continuare A prendere tempo Finché come dicevi te Dobbiamo passare Questa brutta nottata Di Trick Room Perché io penso Lui mi vada di Playero Su Fini Adesso Mega Evolve Sì E cerca di shottare Fini Perché Cresselia Non avrebbe senso In questo momento Perché non è un problema A meno che non si aspetti Che ha la Trick Room Come il nostro Però In ogni caso Cominciamo a danneggiare Un po' Gastronom Se ci arriviamo a farlo No Non vediamo chi danneggiamo Cresselia Eh vedi Ha pensato che noi La levassimo Ma ti dirò Te l'avevo detto Che poteva pensare Che se avessimo anche noi Giusto 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 così Lui Mega Evolve Quindi abbiamo scongiurato Gli Intimidetti Da qui Alla fine della partita Sì E qui arriva Su Fini E qui arriva O un player o su Fini O un Ironhead Su Fini Ironhead Ok di qua Buono Buono Ci danneggia Ma reggiamo Buono E guarda L'abbiamo Va bene Guarda un po' Siamo Spex Non è un crit Ma infatti Stavo per dire Ti ha critato? No Adesso teniamo fermo Ma while Beh sì Teniamolo fermo Tutta la vita E di là Lui la bacca L'ha mangiata E perde il Trick Room C'è due turni tra l'altro Quindi noi dopo ci facciamo anche fare una kill Sì sì Qui ci frega Lui probabilmente ci tirerà giù Kang Con chi ce lo tira giù? Sto pensando se a noi conviene Tirare giù Cresselia Perché se noi gli tiriamo giù Cresselia C'è un Pokemon che viene giù Tanto alla fine dice Adesso che danno può fare Dato che la Trick Room è già in campo A noi ci interessa che non la rimetta Quindi potresti fare Fake Out E danno su ma while O Fake Out e Switch O Fake Out e Switch Fake Out e Nido Queen E il turno dopo lui Fake Out e Nido Queen E lo costringiamo il turno dopo Dice attacchi Attento che sta finendo il tempo Sì sì sto pensando Sì sì mi piace Mi piace con Nido Queen Cioè io Ma allora con sto Nido Queen Ah il Non ti preoccupare Sai molte volte io dico Croco, Coco, Chomp Non sciogli lingua VGC 17 a volte Anche perché sono Pokemon Croco e Coco Mi piace perché adesso lui C'è un turno Può attaccare Lui probabilmente avrà fatto Psychic su Kang E ce lo tira giù Esatto Va benissimo Dici di no? No Nel senso è stato un Adesso entriamo così E proteggiamo Eh sì Anche se gli lasciamo aperto E noi sappiamo per certo Che dopo lui Lo slot di Mawile Lo deve Eh no Anche perché io Il prossimo turno Non sarò Io ti dirò Qua io faccio Psy Shock Su Cresselia Così gli portiamo In range Sempre Cresselia Il prossimo turno Di qualsiasi cosa Così che Siamo liberi Di targettare Mawile Tanto Mawile Può anche colpire Cresselia Anche perché Gas Non prende Attenzione però Sì sì ma qua È andato doppio su Cresselia Io penso che lui Abbia capito Che noi predictiamo Sì certo Quando ha visto Che il primo turno Abbiamo fatto double target Su Cresselia E qua penso Faccia Ironhead Su Cresselia Infatti Cioè ci rida Della moneta Però reggiamo Abbiamo la bacona Anche noi E ovviamente Ci bastava Una manciata di PS Ragazzi Per attivarla Vedi non va giù Ma dovrebbe venire giù La prossima E lui dovrebbe essere Più lento del nostro Cresselia Assolutamente Ora ho detto dovrebbe Però venire giù La prossima Secondo me sì Sai qual è il problema Sa che punch Su Cresselia E lui rimette Trichium E rifa Pasqua di domenica Vogliamo Sacrificherebbe Mawile Vogliamo fare Sacrificherebbe Mawile E appunto per questo Sto dicendo Cioè Ma se facciamo La trollata della vita Helping Hand Sul Nido Queen Lui fascia Helping Hand Al momento è Ma per non farti arrivare Per non farti arrivare Il sacchia punch Questo dice Io ti dirò Quasi quasi switcho E faccio Slardom Su Cress Sì Può sennò switch Il concetto era evitare Il sacchia punch Su Cresselia Anche se non lo tiriamo giù Adesso Adesso È un bel dilemma Ho visto che hai fatto Alla fine Psy shock Sì Io penso Fara sacchia punch Su Cress E invece Buono Siamo fatti Le seghe mentali Capace non ce l'abbia Beh qua non reagisce mai Ora Se Cress viene giù Non siamo messi malissimo No no Assolutamente Qua è un roll E sai Non si può mai sapere Se è roll alto Prima Roll basso Non ci posso Guarda un po' Ha però fatto Psyche Boia Guarda Nero La bulking Guardiamo con chi entra Aveva Bulu Volcarona Snorlax Vabbè Bulu Non si entrerà Probabilmente Non di Gastrodon Vabbè Allora Qui Cresselia Buttiamolo giù Per cortesia Perché non se ne può più Daver quel coso Ci può giurare Però Gastrodon Adesso C'ha la possibilità Di scoldare E sinceramente Ci rompe le palle Soprattutto su Nidoqueen Cresselia Se ci fa scolde Non veniamo giù E ci riprendiamo di bacca No ma infatti È più questo che sto dicendo Che secondo me Io proteggo Con Nidoqueen Proteggi? Sì Perché Se io dietro Bulu Sì Mi piace Allora Diciamo che adesso Le percentuali di vincere Sono più basse Delle sue Però Però Dipende anche molto Dipende dal moveset Che ha Certo Fosse venuto giù Eh sì Staremmo parlando Di altre cose Però vabbè Così Vediamo se arriva Intanto lo scold Su Nidoqueen No Arriva l'air power Perché lui dietro Probabilmente ha Bulu Ah addirittura C'era Heart power Probabilmente ha Bulu Dietro Snorlax Snorlax è un problema Perché Abbiamo la toxic Però Dobbiamo usarla Se noi si fa Toxic La userei proprio ora 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 Perché poi si diventa Con finish Non si può più fare Vai di ice beam No no Di air power Che stab Che stab Si hai ragione Si fa un bel danno Lui ci tira giù Nidowing Ma poi dopo ci locchiamo Con moon blast Più abbiamo Derping hand Più ci sarà la toxic Vediamo se basta Se non basta È comunque stato Un gran bel match Qui in metà vita Io avvia No Questa ci costa La partita Perché poi Con fini Non possiamo rifarlo Accidenti No È impressionante Quanto c'ha A 95 90 A 90 Questo ci costa La partita Accidenti Col doppio fini Avremmo potuto Cioè Fini contro due Però No ok È morto anche Cress Si però Boh Vabbè Io ora faccio Moon blast Su Gastrodon Vediamola Se moon blast Gastrodon Me lo tira giù Il problema è che Lui ora ti dramma Nel viso Si ma Se è iperavvelenato No appunto Per questo sto dicendo Che Un liperavvelenamento Tutto sta Se Vediamo se Il retorno È due hit Che io È finita la festa No 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 Ora È perso Ok Sto dicendo Se poi In virtù dell'analizzare Se ha pesato Vela toxic O meno Comunque Non per cercare Sempre nella sfiga Il colpevole Noi qua abbiamo avuto Una sfiga nera In due occasioni Non ci ha fatto partire La bacca Con l'Helpingham Piorio Ned Ok Si ce l'abbia tirato giù Comunque Però non ci sapeva crescere Al 75% Perché magari Perché Correggimi se sbaglio Ma 227 diviso 4 Buona 227 diviso 4 57 Quasi 60 Eh noi avevamo 58 Quindi cioè Se ci faceva 1-2 PS in più Ci partiva la bacca Noi eravamo al 70% E si vinceva Questa partita Anche perché Adesso ti faccio vedere Il danno di Moonblast Spex Su Snorlax Non è irrisorio È un 35-40 E quindi se te ci metti Una Toxic Un Helping End È un Cresselia Che poi rimane Anche da solo Cioè Ha voglia di baccare Ok Si portava a casa noi Non è stata male Questa prima partita No 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 Perdere ci sta Non è una cosa Considerando che non abbiamo Mai testato questo team No 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 Infatti No è la prima volta Che lo testiamo Niente Showdown Niente Abbiamo fatto tutto Io sono soddisfatto E alla fine hai visto Nidoquin Il suo lo fa Non si è fatto Abbiamo messo in difficoltà Un 1700 Si è trovato un full trick room Che è sempre complicato Da affrontare E qua Appunto abbiamo detto Un roll più alto suo Che ci fa partire la bacca E si vince noi E un roll più alto nostro Su due Epsysho Che quel Cresselia Viene giù E vinciamo ancora una volta noi Quindi si può essere Super soddisfatti Però quel che conta È il risultato E quindi La lossa L'abbiamo perso La lossa L'abbiamo segnare E vabbè Non ci scomponiamo Andiamo avanti Secondo match Non ci guarda quattro Messico Stavamo guardando Un PS in più E partiva la baccona Su Cresselia Bella storia Messico e nuvole Guarda un po' Maccargo Cravili Taitar Cos'è un full roccia? È un monoroccia È un monoroc Di Ivan Se prendiamo contro questi Noi prendiamo Impacchettiamo Il canale Mio Tuo Si chiude tutto Il nostro Nika MC Nika MC Siamo attenti Siamo attenti Allora qui Direi che sicuramente Nidoqueen ci sta strabene Più umane trick di Mega Ma Però c'ha quel cavolo di Rhyperior È anche vero che Rhyperior Da Nidoqueen E Fini Ne tocca Lucia Portiamo Kang Non abbiamo mossa lotta Abbiamo solo Fake out Lucia Non so quanto vada bene Perché È volante Capite qual è il punto Anche qua Karbink Proverà La trick Io farei Fini Nidoqueen E partirei proprio Dai Di cattiveria Si qui dobbiamo sfruttare il fatto che questa persona sta giocando un mono Eh si 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 E poi E poi Nonostante abbia Rhyperior Se lo porta Noi ci si affini Nidoqueen Porterei Manetrick Ci sa lo snar Abbiamo un intimidate Che va su Tyranitar Su Rhyperior Credili È fisico o speciale? Sai che non lo so? No dipende Lo puoi fare in entrambi i casi? Sì ha più senso fisico Buono Però lo puoi fare anche con Hansen Power Giga Drain Lo puoi fare come ti pare Ha più senso Solitamente lo fai fisico con Sword Dance Guarda Non prendiamoli sotto gamba Perché io Ho già riperso Match del genere E dicevo Ma Vai No Però Siamo attenti Vedi Taitar Karbink Io vado di Scald Airpower Tutto su Karbink Karbink È pericoloso Sia per la possibilità Di settare screen Sia per la possibilità Di esploderti in faccia Vabbè Quello non ti fa grandi danni Più che altro è la Trick Room È la Trick Room Certamente Cioè qua è il supporter Io vado di Scald Più Airpower Quoti Quotissimo Cioè Se gli leviamo la Trick Room Mega Evolviti Taitar Fai cosa vuoi Ma poi Taitar Davanti a Fini Comunque c'è nel senso Non lo giocherei così Ma poi anche davanti a Nido Insomma Bisognerebbe che fosse Un Taitar Spex Con Ice Beam Oppure vabbè Che danza Ma E invece lui No 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 Sceglie di Va bene Sai col boost Della send Ti puoi permettere Di prendere una botta Sì due però no Però Vediamo Allora Intanto parte del power E questa frizza Questa li fa Molto male Speriamo che venga giù E di Scald Perché se il danno di air power È questo Beh È venuto giù Allora Perché Altrimenti non si spiega La disconnessione Buon E quindi si è disconnesso Perché è venuto giù Carbink Sì Perché lui deve piazzare Trick Room Se non piazza Trick Room Perde E quindi Il nostro amico messicano Con il monoroccia Ha già detto che Ma vale questa Come vittoria Eh no Nel senso che Solitamente io calcolo Di sconnessione come vittoria Se sono al terzo Ok 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 Qua L'avremmo massacrato Sì Perché l'avremmo massacrato Beh direi Però Diciamo dai In un video Con te Che insomma Dai dai Facciamo una Qualità Una battle per bene Non lo taglio La mandiamo in onda Sì sì assolutamente Ma non vale Come casellina verde E allora andiamo avanti Andiamo avanti Come se non l'avessimo giocata Beh sì Alla fine Se ci pensi Ora a parte tutto Ok fa piacere Mettere la casellina verde Però ci fa piacere Anche a noi testare Realmente Questo team No 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 La scelta di fare Double focus Eccolo qua United States 1608 Marcello No assolutamente Allora Qui invece abbiamo Un altro team stra strano Però Un exegno Non a Lola Però sapete Cromer Probabilmente Ragazzi Un altro lighting road Un altro lighting road Mannaggia al clero Vedi qua Manetrick Poteva starci Strabbano Però anche lì Mi vuoi portare Rhydon? Io c'ho fine Nido Allora qui Abbiamo Tante intimidate Abbiamo anche L'audicia qua Sì sì Non ce lo scordiamo Abbiamo tanta intimidate Qua Tanta tanta Gerdosarcrime Uno su uno Ce lo becchiamo Di intimidate Ma tanto noi siamo Molto speciali No appunto Per questo dicevo Manteniamo Allora Diciamo che Nido Queen Lo porterei Anche solo Perché è il vessillo Sai qua cosa si può fare Cress E Icy Wind Boh Icy Wind Come se piovesse Nido Queen Qua si può partire Qua si può partire anche Kanga Cress E dietro Sfini e Nido Cioè non c'è bisogno Di partire con la luce E far rain dance E far tailwind Si diventa troppo Macchinosa No ma poi le botte Ce le prendiamo E monetic rimane ancora Lì a fare la muffa Eh del resto ragazzi Non bisogna portare le cose Per forza No no Andiamo come ho detto Va bene C'è un po' di speed control E facciamo late game Nido Queen Qua non ha velocità Icy Wind E noi siamo più veloci Dai Marcello Regalaci questa vittoria Signor Marcello Intanto è partita La musichetta Molto Eh si è piantato tutto No 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 Ci sta Ci sta Ok Oh poi dopo c'è da fare Le due palloline Sulla team acqua academy È vero Hai ragione Hai ragione No assolutamente Anche perché Quindi stay tuned Anche perché Insomma Abbiamo continuato Questa iniziativa Che è piaciuta tanto Ai ragazzi Che hanno partecipato Guarda 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 Che voglia mettere Trick Room Eh io te l'ho detto prima Ho detto subito Che c'è questo Trick Room Soprattutto perché è normale Insomma Quindi non è che abbia Tanti altri utilizzi Senti io Meg Evolvo Meg Evolvo E gli fai una bel Fake out Nel suo Exeggutor Sì anche lui Mi lo chicca Amen Di qua Anche Icy Wind Anche Icy Wind Tanto non la fa La prima Trick Room La seconda Però la seconda Che gli fai Perché sai Poi dopo lo tiriamo giù Di return Con Elping Hand Se ci metti Il danno di fake out Il danno anche Icy Wind E Elping Hand Più return Io gli ho vieno giù Lo stesso Lo stesso Lo valutiamo Dal danno di fake out E del primo fake out Sì sì va bene Va bene Cioè Non mi metterei a fare Tossina su Kanga Gli rimane il suo Kanga Però attenzione Libero Che quindi farà Fake out No probabilmente Probabilmente ci fa Addirittura lo kick Dritto per dritto Sul nostro Kanga Non sarà stato clemente Come noi Nella scelta Delle mosse Delle move turn No no Questa gente Va con Tutta la roba di Horace Ci sta però Visto che Kanga È stato particolarmente nerfato Non darei assolutamente Per scontato La possibilità Siamo più veloci Di farlo kick Chiaramente Guarda No no Va giù di return Va giù Oddio Fake out Boom su Cress Ci ho fatto un favore Cioè nel senso Preferisci avere il Kanga pieno Certo Avrei fatto Icy Wind Io a sto punto Farei Elping Hand Io ti di giù E ti dimentichi La trick room Se ha così fretta Di metterla Allora Danno da 40 40 poi Diviso 4 Ricordati che adesso 25% Quello è un danno Quello è un danno Da 50 Va bene Noi abbiamo 102 125 Quindi li facciamo Una volta e mezzo Quello che si fa lì Mi sa che non basta Andiamo di return Io voglio scongiurare La trick room Dai Ok Anche secondo me È safe Cioè ok Potrebbe venire giù Ma Cosa che mi farà Paura È se quell'exager C'ha una baccona Primo colpo Glielo attiviamo E poi regge anche il secondo Vediamo Comunque guarda Quanta differenza Fa un Kanga Adesso nel fatto Boom Sarebbe bastato Allora Però Vabbè Meglio Tanto ascolta Cosa facevamo Si c'è Icy Wind Tanto è più lento Sto Kanga No no Va bene così Boh Bella sleppa Tira sto Kanga Eh sì Crit Vabbè Eh insomma Perché adesso Di Sucker Punch Siamo in range È vero anche questo Abitati Prima ci avrebbe fatto fuori comunque Adesso Che il parental bond è nerfato È una differenza Allora io Icy Wind Esatto Stavo perditi Questo Kanga Nell'intimidate A 50 dita Non lo sprecherei Icy Wind Può tornare utile Un prossimo fake out Dopo Late game Icy Wind E fini Icy Wind E fini Sì Purtroppo davanti Kanga Fini un po' mi spaventa Però Che dobbiamo fare Adesso ancora Non è il momento Di Nido Queen Nido Queen qui Potrebbe fare danno A Kanga Scand Ma Geridos Geridos E le Firebeam Ok Però insomma No Non è ancora il momento Ho detto proprio bene Ogni match Ai suoi tempi Quanto ci stava bene Mega Money Trick Però vi abbia piazzato La Trick Room Tranquillo Capito Chiaro Avremmo fatto un'altra lead Però Dimmi se è andata su Cress Per gestire La Trick Room Secondo me Abbiamo fatto la scelta migliore No no Certo Perché Mamma mia Lui in pratica Ha il parental bond È il critical bond Ah guarda Miss su Kanga Sull'unico Su cui non volevamo missare Vabbè Non importa Che dobbiamo fare Poi diano mi lamento Vabbè No è incredibile Ci sta Icewind ci sta Eh ho capito Ma adesso eravamo più veloci Eh Eh lo so Tra l'altro Lui ha fatto Dragon Dance Quindi è normale Di velocità Insomma è a zero Eh Qui non abbiamo più La control Allora Io direi O Elping Head Danna tutte e due O Moonblast Kanga O Gheridos Il punto è Quale dei due Contanti Allora Gheridos Li fai un Sessantello Di Moonblast Con l'Eping Head Incluso No no Ah ok Facciamo specs Con l'Eping Head Quanto li facciamo Ottanta Io rifarei comunque I Seawind Perché ci regaliamo Non farei Un Eping Head Ci regaliamo La possibilità Con Nero Queen Di essere più veloce Sperando di non mi tagliare Porca miseria Davvero Eh Chiaramente Lui va lì È capace anche Che faccia un Double Eh Sì ma intanto Un Blast Te lo prendi Cioè L'abbiamo portato Di Sludge Bomb Capito Ora l'abbiamo preso Peccato Per il primo Seawind Ma va bene Così dai Waterfall Ditto su Cresselia Penso basti Sì perché È primo di attacco Però Allora adesso Io stavo pensando Al fatto che C'hai il Fake Out Bravo C'hai il Fake Out E si doppia Kanga E poi rimane Un Geridos A meno uno Di velocità Con davanti Nido Queen E poi O Kanga O Fini Con accanto Nido Queen Sì È la soluzione Più C'hai il Sucker Punch Ma Kanga È in range Ma tanto Sucker Punch È meno priority Di Fake Out No? Quindi che problema c'è? Sto pensando Per fare Sucker Punch Su Geridos Però Non ci conviene Levarci dalle palle Kanga Scanna Lui ci tira giù Kanga A noi Con Geridos Sì ma Poi Tanto arriva in range Di Moonblast Tanto anche se Ridanza pareggia La speed Perché è Attualmente A meno uno Di speed Più uno Di attacco E noi eravamo Più veloci Con fini Ce facciamo? No Tirarlo giù No Però lo portiamo In range Di O Moonblast O Nido Queen Ok Buono L'utile drop Waterfall Salutiamo Kanga Eh va bene Sì 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 Vabbè L'avevamo E non ha danzato Quindi sono ancora Entrambi Adesso sono due morti Che camminano Che è la situazione Migliore Bella Bella Mi è piaciuta Come la abbiamo Giustita Ora vediamo Allora Lui potrebbe Potrebbe switchare Il Kanga Quindi Vediamo chi ha Signor Marcello Dietro Ok Siamo loccati Su Moonblast Lui ha Ancora Possibili Pidgeot Mega No Non lo può avere Dietro Perché c'è il Kanga Arcanine Però doppia Doppia Antiglia Arcanine È ottimo È Raidon Allora Moonblast Io direi Su Kanga E sludge Su Gaidon Dici Non è che Kanga Lo tira via Per avere un fake out E ci mette dentro Raidon Vabbè Chi ci frega Meglio Sì dai Cos'è che gli stai facendo Sludge bomb su Geridos Sì Sì va bene E protegge E protegge Gareos Eh vabbè Però Nel senso Noi con Moonblast Non glielo tiriamo giù E rimane lì Sì sì Anzi Ciao Posto Ora però c'è il fake out E ora noi ce la giochiamo Questa è violita Ma guarda e botta Prende Su chi lo farà fake out lui? Secondo mi Allora Beh io andrei doppio su Raidon Fammi pensare Che cosa potrei Che cosa sta pensando Lui in questo Mettiti nella sua situazione Kanga Mi fa return su Fini Allora se fa return su Fini E attacco Con Nidoquing Kanga Lui di Raidon Mi tira giù Quindi Io vado di Moonblast Su Raidon E Airpower Su Raidon Buon me Se non arriva il fake out Su Nidoquing Mi ce lo faccio Fini Meglio È meglio Insomma Abbiamo matematicamente vinto Ti torna? Mi torna Perché adesso L'uno o l'altro Lo buttiamo Fare fake out lì Inutile Fare turn Ma infatti per questo Ti ho detto È fake out Mi aspettavo su Nidoquing Ma è lo stesso Perché se ora fossimo rimasti Uno contro uno Col parendo al bond Nerfato Noi reggiamo Return Perché abbiamo scelto Nidoquing E non Nidoquing Ora Magari a terremoto C'è Kritta No dai Non lo dì No no dai dai Siamo anche più veloci Perché questo È appunto Un trick room team Infatti tu Non avevi fatto Anche questi danni Con specs fini Buono Casella verde Bella storia Bad match Anche qua Tanti ragionamenti Tanta carne al fuoco Bene Senti si allunga un pochino il video Ma io fa un terzo Ti diverti A me va bene Vai andiamo Quindi casellina verde per noi Casellina verde Che bello Casellina verde Yeah Giappan 1702 Io tiravo uno sbadiglio Immenso Ma ragazzi Non perché mi stai noiando Ma perché sto giocando Esce domani Questo video Sì 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 E sto giocando a un gioco Fino a tarda notte Quindi Non sto riposando per niente Cicciolo È forse giunto il momento Di Auluce Allora Perché tra l'altro abbiamo Non solo Reindance Non solo Reindance Ma anche giusto C'è proprio Giovannone Ma c'è anche l'acrobazia Il Subulu Acrobazia più Dazzing Di in via in giù Però più che altro Lui è un Pseudo Sand Sì Gli togliamo la Sand Gli rompiamo le balle Io uovo Però Io uovo Andrei di Mega Manitric Così te la senti Mega Manitric E però Cioè Il Lightning Road Non ci facciamo una mazza Megavolviamo L'Intimidate Eh no Per l'Intimidate Sono tutti fisici Tranne Iatran Che però Non godrà Dalla Rain Brastorisk è Mega Però Vediamo se lui ci parte Con Se parte con Dusclops Però comincia a mettere La Trick Room Eh capito Io su C'ho Scrappi Su Kang Abbiamo 20 secondi Per decidere Kanga Fini O Lucia Fini Kanga Fini Fede sì Non è che gli voglio male A Lucia Però Ci siamo più coperti Che dobbiamo fare Sì Quattro e Seria Ci facciamo Qui lui mette Dusclops Cerca di mettere La Trick Soprattutto per Tyranita E noi si fa Fake Out Moonblast Su Dusclops E poi Torno dopo Non si mega evolve Return Moonblast Tutto su Dusclops Potrebbe partire anche Di Titar Dusclops Eh sì Potrebbe Avrebbe però In tal caso Dusclops Dusclops Wall fake out Giusto Attenzione Perché se questo Piglia mega evolve E fa zampillo Ci fa male È boostato Dall'abilità Zampillo No 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 Meno male Meno male Altrimenti Se avessero più forte Se avessero uno zampillo Di chiogra Praticamente Conosce I nostri Oggetti Che non è male Come abilità Se ci pensi Molto buono Giovannone Io vado di Moonblast Su Dusclops Eh E fake out Su Dusclops Sì ora Vediamo se Non abbiamo commesso errori Nella scelta Del Ma io l'ho fatto Con scrappi Perché mi piace Avere Il fake out Sì ovviamente Non dobbiamo mega evolve Però No No Questo Questa non mi piace No No Io ero tutto emozionato Questo era un gran bel me Eh sì Niente Però hanno tutti paura Il nostro Nika MC Questo non è stato un problema Niente Andiamo avanti Quarto match Però anche qua Niente 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 Il Nika MC Miete vittime Solo all'inizio Vedono l'acronimo Non vedono Non ce la fanno Non ce la possono fare Sentono la forza del Nika Poi gli arriva anche il Mac A casa Quindi niente Non mangiare Non giocano Senti Acciuga Che canzoncino vuoi? Ma senti Io metterei Team Skull Boss Team Skull Boss Così ci abbiamo Fella di Guzman Guzman MC Guzman MC Giusto È il suo Mi sembra giusto È il cacio su maccheroni È il cacio Il cacio sui mag Cargo San Barbara Bollestille Di L'Urzia Eh sì San Barbara San Barbara Bollestille Di L'Urzia Ragazzi Incredibile Abbiamo trovato Un tale Rocky Che ci venera 1591 Connecti Cut Attenzione ragazzi Abbiamo Raishualola Attenzione perché Questo è un team Bastardo Vabbè qui abbiamo Mega Swampert Pelli perché setta la Reign Swift Swim Ludicolo E Mega Swampert Anche un altro corridore Ad alta velocità Che è Raishualola Sotto Electric Terrain Un botto di Thunder Cioè Tipo la Sagra del Tuono Quindi Lightning Road Finalmente lo mettiamo Direi Sì E proprio perché qua Ci serve l'inti Vedete Sì Quasi comincerei Con me Perché secondo me Lui lì dà Di 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 Si corcoco dentro Però se non è Potrebbe anche fare Per il per Swampert Così A cattivo subito Swampert Swampert Non ce l'abbiamo Grass Vero? Non ce l'abbiamo No Abbiamo Fini 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 Matic O Fini O Lucia Fini Matic Fini Matic Io direi quasi Però aspetta Non è male Dai proviamola L'idea luce Proviamola Proviamola Però Nido King Va portato Perché c'è T-Shot A mezzo team Sì ma io infatti farei Uno Due Tre E Nido King C'è Nido King Guarda C'hai La terra Su Coco E quell'altro Chai E Ludicolo Sludge Bomb E lo mandi Al creatore Air Power Su Mac Giusto Peni per E l'altro amico Swampert Ti rompono un po' Le palle Ci rompono un po' Le palle Vediamo Questo è il classico Mesh up Che non sai Come gestire In Best of One Comunque Rocky Si chiama Rocky Ma è una donzella Quindi Un po' strano Rocky Un po' Ambiguo Rocky Si cambia No va benissimo Eccolo qua Ecco poi Un treno Rocky Con delle belle treccine Si dovrebbe chiamare Monoroccia Rocky Monorocchi Mac e Rice Ha lì dato Con un elettro Allora Attenzione Perché ha fake out Attenzione Soprattutto Perché abbiamo Una luce Davanti a uno psico Se ci fa fake out Top Abbiamo Luce davanti A uno psico Stiamo molto attenti Tailwind Tailwindella Ci sta Così Questo Rasio Può fare Tailwind E Money Trick Così si arriva Al che cosa Ma ti dirò Perché se Ci fa Allora Quel Mac può fare Poison Jump Su Fini O Knock Off Se ci fa Knock Off La Mega Pieta Non ce la toglie E non ci fa grandi danni Se si pensa Invece faccia Poison Jump Ci converrebbe Mettere Nio qui Però si perderebbe Un eventuale Ai Forb Che io non voglio Perdere Perché è la differenza Fra il vivere O morire Contro Mac Però se lo fa Non lo fa Se lo slot Di Fini Vediamo Vediamo Non fa Tailwind No Va di Termin Quindi niente Brucia Pelo Boom Pronti via Z Z Eletro E noi abbiamo Lo dicevamo prima Che non avevamo fatto La Z Eletro Cioè che non avevamo Peso la Z Questa Gliela assorbiamo Grande goduria Per noi Lighting Road Che bellezza E ci bustiamo Anche l'attacco Perché Vabbè Non ci frega niente Però arriva Poison Jump E arriva però Nello slot Ma È incredibile Porca miseria Porca miseria Però adesso Noi possiamo fare Una sorpresa Che è questa Rain Dance Ma stiamo registrando Video Esatto Grazie Rain Dance Mega Evolution E Thunder Poi ti iscrivo Benissimo Siamo più noi Spazio Io direi Di farle Queste cose belle Doveva venire giù Se viene giù il video Si prova Vai L'esperimento scientifico Vai È tanto bello Tra l'altro sappiamo anche Che farà parte del Stava vedere Ci faccia lo sneak No Ci faccia lo sneak Ma rabbia Sì però Caspita ragazzi Ma ci ha crittato Dai dai Voglio la terza casellina verde Eh no Ma tanto È così La mia vita è così Io non potrò mai godere Fino a fuori Veniva giù E mi sa Dai Perché tuono Più uno Cioè Eeeh Cioè è pazzesco Ci avrebbe fatto Cioè eravamo al 40% Capito Sì Si è messa malina questa Sì ma ora Ti faccio vedere Cosa si fa Cosa c'ha in mente E' in corso Un mac Quindi Che storia Così comincia a fare Shadowsnake come un pazzo Ti dirò Non potendo selezionare Il bersaglio Arriverà sicuramente Sua blucia Perché così Poi dopo ci ritira giù Intanto noi andiamo Vabbè Dici che non lo cambia Se me cambia Mac E non Rai Vediamo Cioè Caspita È pazzesco Rai Ci protegge Stai a vedere Benissimo Pizza e birra O meglio Una malasada Che tanto arriva Sua luce Allo Shadowsnake Spero di no È sicuro Da te Da te Buono Allora lì Lo cambia Che cosa ha Controlla un attimo Eh c'ha peli per C'ha peli Per assorbire E allora te gli vai Di air power Sul Eh per aspetta Potrebbe metterla No io vado Di agrobazia Qua Eh va bene Lui si potrebbe Anche aspettare Vai di sludge Di là Sul Raish Vai di sludge Chiunque entra Non dovrebbe Che tanto basta Hai capito Secondo me Qualsiasi cosa entra Lì prende botte Perché lì Potrebbe mettere Periper Aveva paura Qua di ancora Swampert Che non è male Però aspetta Swampert è terra Quindi in realtà La sludge La resiste Però non mi ricordo Da un copo Guarda Si faceva sludge Come un di là Cioè quanto faceva Quanto faceva comodo Manetrick vivo Si ma che poi rischia Con un air power Tremenda lì sopra C'era Probabile Vabbè Per carità No vabbè Non si sta mettendo bene Questa partita Ma abbiamo L'attenuante Solita Guarda là Però Dirt power Abbiamo Questa Wow Si mette male Ma Questo turno Però Adesso sono fiducioso Forse con un'altra Tailwind Ce la possiamo fare Qui proteggeresti Per forza Per forza Swampert In questa generazione Lo sapeva meglio di me Mega Evolve Ha già Lo sweet swim Attivato Giusto così È stato un fix Importante Ottimo Perché altrimenti Prima non si capiva niente Con anche Ti ricordi Seblay Che manteneva Prankster Di primo turno Si però Poi era mega evoluto No 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 Stiamo ancora comunicando Ok ce l'abbiamo fatta No io ci ripenso Crit su Kai Eh lì si è messa male Però poi anche Nel turno di prima Abbiamo fatto delle Ho fatto delle scelte No ma Guarda Ti dirò Non hai fatto delle scelte Hai fatto delle scelte giuste Tutto sommato Non sai che Tiraci giù a Lucia Perché se ci tira giù a Lucia Ci ha fatto un piacere Buono Perché noi adesso Si può andare di Doppio offensive Con la telewind attiva Allora Prendiamoci questi Secondi confini Per scegliere Già una mossa Allora Ice beam su Air power Air power Giusto Non ti facciamo ingannare Dal danno di sludge bomb Che abbiamo crittato Abbiamo crittato Hai ragione Però Il danno di air power Sarà comunque maggiore Perché Il critt è 1,5 La resistenza è 0,5 Quindi è come se noi Gli avessimo fatto 0,75 Del danno di air power Che però Ha un pochino meno potenza Quindi è come se Gli avessimo fatto Un 80 83% Del danno Che poi gli facciamo Di air power Non so se mi sei spiegato Ho capito Cioè più o meno Arriverai nel rosso Dentro Questo Questo swampert Però Di scald Sotto rain Quel Cos Viene giù E coco Quel 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 coso Dico Quel Ma dici swampert Quello swampert Cioè dici swampert Sotto rain Scald viene giù Ma se il danno È stato quello Ma insieme Air power No 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 Se ecco io andrei ora Di air power su coco Tanto ascolta Adesso vi vero a morire Abbiamo tre turni Di tailwind La nostra Unica Wind condition No no C'ha mac Ha ragione Quindi se noi Si va di air power Su coco Che rimanga coco Mac Cosso se ne tira giù Uno Fora uno Poi se si riesce A tirare giù Di scald Quello swampert Sotto rain Abbiamo vinto Il tutto Se Ora noi abbiamo Tailwind Lui ha la rain Quindi abbiamo Entrambi le velocità Raddoppiate Se il nostro fini È più veloce Del suo swampert Sì E un pochino Di speed Ce l'abbiamo Perché abbiamo Fatto un fini Abbastanza speedy 120 Vediamo Ok Faccio scald Perché ha più potenza Di Moonblast Perché è una mossa Da 80 Che diventa 120 Che poi è stabbata Ci torna a essere ragionamento No no Assolutamente sì Proviamolo Tanto Ascolta La gente a casa Sa giudicare Senza per il crinto Su money trick È un'altra partita Però è andata così In questa situazione La cosa migliore da fare Più come sia questo Giochiamocela dai Attenzione Hai avuto ragione Le stringo la mano Grazie Più dal signore Le stringo la mano Bravo E ora Rain stopped Tra l'altro E ora sono cazzi E noi abbiamo Due tune di Tailwind E ora sono cazzi Perché lui c'ha Mack che entra E Nido Queen Lo guarda E le fa così Però fake out Prima nulla ha fatto Con Raichu Ce l'avesse Potrebbe romperci le palle Perché ci fa fake out Tipo su Nido Queen È che io Lo faccio Su Raichu Ok Perché Raichu può avere Psychic Mack no Quindi Nido Queen Deve temere dal Raichu Giusto Quindi io ora Tutti i turni Vado su Raichu Se poi si rimane Uno contro uno Con Nido Queen Mack Vado via Mack Mack che facciamo Lo scaldiamo Sperando di prendere Ah scalpo e forza Siamo specs No Il burn non lo prendiamo Però insomma Scald su Mack Il burn non lo prendiamo Perché siamo infine Misty Terrain Per quanto Ascolta Lo scald su Mack Mack È inutile Perché tanto Poi di air power Lo si sciotta Quindi andiamo doppio Sul Raichu E se proteggi? Chi se ne frega Però se fa fake out Come fa Ci sta che venga Tra l'altro Di scald Perché siamo specs E lui non ha Proprio grandi difese Però va bene così Perché tanto Va bene così Vedi Lui non ci dovrebbe Tirare giù Mister Crit Qua Ok ho avuto paura Noi siamo ancora Noi siamo ancora Noi siamo ancora Noi c'è l'ultimo turno Di Tailwind Quindi noi si fa Scald qua Sì Ear power qua Dovrebbe bastare Dove lo fai Ear power di là Destra Mack Se non è basta Sul Mack Ma che diamine Siamo stab Life orb Sheer force Cioè Potevamo fare anche Eh però attenzione Mack è un po' Dalle mille risorse Doppia protect E finisce la Tailwind Sì questo ha senso Bene Mind game Adesso c'ha lo psichico Disponibile Quindi la cosa che Layer 1 Se ce l'ha Layer 1 C'ha fake out C'ha fulmine C'ha protect La filler Allora secondo me L'obiettivo è buttare giù Raichu Perché alla fine Mack Io posso fare protect Con Nino Wing Allora scaldo Intanto sul Raichu Però se ti fa fulmine Perché Su Tapu Fini Ha vinto lui Ha vinto lui E vabbè E vabbè Tanto sti cazzi Vabbè Se ti fa psichico Lo proteggiamo Nido Queen Tanto alla fine È persa Comunque se lui Ha fatto fulmine Su Tapu Fini No aspetta Allora no Non proteggerlo Nido Queen È più lenta Però E Fini da solo Contro Mack Non ci sta Un bel casino Lui se fa fulmine Su Fini È messo molto bene Secondo me Devi fare Airpower Su Raichu Perché però Se fai airpower Su Raichu Lo è affatto Psichico Ci ammazza Un casino Merta Aspetta Aspetta Ok Era da fare Pro Era da fare Pro Ascolta Perdere 1-0 Con Tutto quello Che è successo C'è da toglierci il cappello No no Ok Mi piace Perché ho pensato Fino all'ultimo Che anche Pro Se facevamo Pro Se facevamo Pro L'avevamo vinto Adesso moriva Fini Il power Vedi Franci Se tu facessi Molte più partite Vedresti che I ragionamenti Si fanno Noi La gente Che gioia in buzzbo Magari Non li fa Ok Cioè quindi Boom Si Toh C'è che viene giù Cosa viene giù Boom Perché Perché Te lo dico tutta Fino in fondo Qua Se decidi Di rischiarti Che Nido Queen Non protegge Ci fai Psy shock E Shadow sneak Ha più senso Perché io potrei essere Più bulchi di quello che sono E reggerti lo Psy Che vincere Hai capito? Io ho pensato Semplicemente No come ti ho detto prima Layer 1 Raish fa psichico Quindi Andiamo oltre Io volevo proteggere Fino alla fine Poi Quello che hai detto te Mi ha convinto Perché hai detto una cosa giustissima A lui conviene fare fulmine Su fini Lui diciamo Delle tre scelte Di cui Due giuste Una sbagliata Ha preso Una delle due giuste Che però non collimava Con la nostra Controrisposta Comunque Così Ho provato ragazzi Comunque Così è andata Peccato Qui il peccato originale È stato il Il crittone Sommatic Nel senso Avevamo un intimidate Ragazzi E avevamo un tuono A più uno No peccato Poi ci avessimo avuto Lightning Road E non ci si poneva Il problema Il fulmine su fini No cioè Ancora Attenzione Attenzione ragazzi Abbiamo ospiti Abbiamo una Chiara e un Nencini Guarda guarda Quella sopra Quella solo vista Eccoli Ci siamo fatti Tre match L'avete perso malissimo Ma allora La prima l'abbiamo persa Partita gran bella Partita super giocata La seconda L'abbiamo vinta La terza l'avremo vinta Però un tizio Si è disconnesso Quindi non l'abbiamo contata La quarta Abbiamo fatto cinque La quarta Si è disconnesso subito Perché Boh E la quinta L'abbiamo persa Alla fine Ma Dei ma anche lì Crit Ma Va bene Va bene Mettiamo la casella rossa Te la vedi Si eccola qua Bene ragazzi Quindi niente Già che ci sono loro Ecco io direi Abbiamo detto prima L'abbiamo promesso E quindi noi manteniamo Le promesse Volevamo ricordare Vieni vieni A vicino Ci sta Ci sta Ci sta Volevamo ricordare Che a dicembre Ci sarà appunto La seconda edizione Della Team Aqua Academy Ovvero L'accademia All'interno della quale Cercheremo di darvi Quella che è la nostra Esperienza del VGC Soprattutto quella del Team Aqua E di Francesco Pardini Che è chiara Avremo più un ruolo Differente Come nella scorsa edizione Un ruolo comunque fondamentale Per la prima La storia del VGC Però appunto Non ci addentreremo poi Nel building Nel competitivo vero e proprio Che lasciamo agli addetti ai lavori Se siete interessati A partecipare All'iniziativa La mail è T Academy Quindi T Lettera T La trovate in descrizione Chiocciola gmail.com Camp Sì Ok l'ho sbagliata L'ho sbagliata La trovate in descrizione Ok Mandate una mail Le date però sono importanti Le date dal 4 al 10 dicembre Quindi sfruttiamo Quel Ponte Dell'otto Quindi alla fine La fiera Se è andata a scuola Perdete solo 3-4 giorni Quindi poi vabbè Se è andata a scuola È andata a scuola Nel senso Ecco Però Se magari Questa cosa Le può valere la pena Insomma No vabbè Ci divertiremo un sacco E poi Al di là di tutto Cioè È una cosa Che alla fine Funziona E ha senso Perché adesso Prima non lo potevamo dire Ora lo possiamo dire Abbiamo già fatto una puntata I ragazzi Che hanno fatto la prima edizione Stanno avendo un grande Successo Ai tornei Cioè si vede proprio Hanno cambiato proprio marcia Stanno facendo top In poi tutta Italia Quindi insomma Evidentemente forse Non raccontiamo frotto No certo Quindi Poi al di là di questo Ci tengo a non spaventare Neanche le persone Che magari invece dicono Ah cavolo Ma quindi è una cosa Dove fate vigisti Tutto il giorno No assolutamente no Noi la mattina Abbiamo la lezione Ma il pomeriggio Insomma Da dopo pranzo in poi Diventa tutto Un po' più divertente Con Più vacanza Più vacanza esatto Con piscina Interna Escurzioni Escurzioni Approfondimento Su Ultrasole Ultraluna Che saranno usciti Da poche settimane Esattamente Quindi prendetela come Una vacanza In montagna A tema Pokemon Nella quale Se vorrete Avrete modo di apprendere Qualcosa E quel qualcosa Insomma è abbastanza Perché comunque abbiamo L'esperienza di giocatori Che hanno vinto tante cose Del VGC E fare anche Vere e propria ricerca Mi piace no Questo termine Che abbiamo utilizzato Prima Questa è una cosa Che a Livorno Non si poteva fare Perché i giochi ormai Erano ultra Spoilerati E invece qui Saranno ultra nuovi E quindi di conseguenza Ultra ultra Esatto E quindi avremo La possibilità proprio Di tastare un meta Che ancora Non si sarà neanche creato Si tasterà Quindi Si tasta il meta Sarà una Team Aquacademy Molto interessante Esatto E potremo sicuramente E anche Beh Forremo E appunto capire In che direzione Sta andando quel meta Dagli la forza In parte una direzione Visto che è il momento In cui gli viene data Eh si 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 Assolutamente Piuttosto che comprendere Quindi ragazzi Noi vabbè Ci lasciamo qua Con due sconfitte Un po' la mano in bocca Però vabbè Dai insomma La qualità del gioco È stata Nika MC No ragazzi Nika MC Eh non c'era neanche Se c'era neanche Crit non li prendevamo Esatto Quindi va bene così E poi appunto Abbiamo detto Mi raccomando Per qualsiasi domanda Anche stupida Sulla Timacqua Academy La mail È per sapere Anche ovviamente Il costo dell'iniziativa Tutto Che comprende Le lezioni L'albergo Il pranzo e cena Attività pomeriane Tutto Quindi per una settimana Mi raccomando Mi raccomando Questa cosa l'ho detta Quindi poi non vi venite a dire Che costa x y Solamente le lezioni Perché siete mongoli A quel punto Perché io l'ho detto Che è Ovviamente Non ci stiamo riferendo A voi ragazzi Stiamo riferendo A quelle 4-5 persone Che Che non parlano italiano No Che leoni da tastiera Insomma Pur discreditare Inventano falsità Ma a noi va benissimo No 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 Siccome l'ho detto in italiano Cioè l'altra volta La prossima Se non dovessi funzionare Anche questa volta Piamo in arabo Ciao a tutti ragazzi Mi raccomando Come dice lui Spolliciate Commentate Iscrivetevi al canale Ciao a tutti Da Chiara Franci E rifranci Nencini Ciao Ecco Dopo questa